Grazie Oggi è una giornata un po' particolare L'obiettivo di questo video sarà quella di documentarla per intero Ci sono due lauree e poi questa sera ci sarà la testicciola E io in tutto questo ho anche un esame Mi vedete con questo capricapo un po' curioso Ma non è il momento né il luogo giusto per spiegargli Per spiegare cos'è anche perché non so se lo farò Comunque sappiate che comunque è una cosa con un determinato significato E non ho idea Bella, bella Appena ho finito l'esame E ora sto andando alla seconda laurea della giornata Esperando di arrivare in tempo Niente sono arrivato abbastanza tardi questa laurea Non ci sono stato nel momento dello schiaffeggiamento E dei cori vari Ma stasera ci sono le testicciole dei due laureati del giorno E lì c'è la parte bella Non mi ricordo nero di me molto Fra caro merda Fra caro merda Come è possibile Come è possibile Questo qua che momento è della giornata Questo è il pomeriggio Il pomeriggio Il pomeriggio estivo pavese Post lauree Prima delle serate Ti bevi due cosine E ti prepari Pre 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 Pre-serata Pre-preserata Così molto semplice Non fallo portugese Non fallo portugese Lui vero fan del canale Cazzo Grande fan Niente ci vediamo stasera Perché poi stasera succederanno delle cose Per un po' di content Per un po' di content Marcio In quel di Pavia Ciao Ci vediamo stasera Con video di pessima qualità Questa è la parte Serale Delle festigiole Delle lauree Di cui vi stavo parlando prima Ci sono molte persone Che assistono Lui è uno dei laureati La madonna Adesso è arrivato il momento di uscire Adesso andrò in piazza del Duomo Mi taglio le capelli Let's go Let's go Andiamo 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 fra Ciao 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 ragazzi Fra te Stasera Mi taglio i capelli In piazza del Duomo Fra 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 Questa è una cazzata È una cazzata Però lo farà È per il content Lo farà Lo farà Quindi attenzione Me taglio Mi serve Mi serve soltanto dell'acqua Vai Mi sputate in testa Siamo arrivati sul posto Ho trovato il cameraman Vai Si può iniziare Vai Vai Dove le ho messe raga Pro ce l'hai qua Che cazzo dici Ok Vai Franco Vai così cazzo Vai Franco Tre dita Tre dita Tre dita Tre dita Fra Tre dita Sì, 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 sì. Giacomo, Giacomo, Giacomo. Vai, vai, c'è anche il capello. E questo è Lucia. Ti posso tagliare la mano? Wow, che figo. Io e Babu ci pensiamo. Bota, bota, sono un parrucchiere. Dio, coi. Devi tagliare la coda, la coda devi tagliare. La coda bisogna. Allo stesso livello, tagliare la pesta, tagliare la pesta. Non dovete solo fare il taglionetto, capito? Quello che ho fatto io, avete visto? Mi fido di me. Fai male, però non ci vedo la sicurezza. Così facciamo una nuova. Il rischio ci piace. Guarda, guarda, guarda ci vuole. Come ragazzi, siamo pronti? Guardate, guardate gli ombri. Ragazzi, siete pronti tutti? 3, 2, 1. Il miglior video di YouTube che ho mai fatto. Ragazzi, di capelli c'è? Oh, oh, oh. Ragazzi, ho messo a sbagliare il video. No, benissimo, vai. Tieni, tieni. Fermo, 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 fermo. Non taglia stai qua. Non taglia un piazzo. No, vai, vai. Fagli di vedere, tagli la cioca. Aspetta, è la stanza di... Ma benissimo. Fa l'applauso. Mamma mia. Mamma mia. Franco, la cioca. Giro, tu. No. Giro, tu. No, non perdete mai le 60. Tre 60, bro. Ci sta, ci sta. Giro, peruca. Prendi la cioca. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Tre 60, tre 60, tre 60. No, no. Dai, Giro, peruca. Non ne ti bene, bro. Ci sta, ci sta. Vai, gira. Aspetta, con gli occhiali. Oddio, oddio. Oddio, oddio. Per toccare... Come sono? Figlio. A chi deve salviare? Di un po' giro. Allora, aspetta. Mi serve qualcuno che sta tagliare i capelli. Qualcuno sta tagliare i capelli. Frate, mi serve che mi tagli i capelli. Si tagliare i capelli. Me li esiste i miei. Domani ti li tagliare. No, 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 ora. Adesso. Ora, ora. Ammi le foto. Aggiustate. Muso. Aspetta, stai fermo in mobile, Frank. Stai fermo in mobile. No, no, peggio di prima non è sicuramente. Sesto contest qua. Ma raga, ma tagliate ieri proprio bene. Aspetta, fermo, fermo. Fermo, fermo, fermo. Fermo, fermo. Giù, per destra, per favore. Non l'avete visto il video precedente? E' stato detto. Bravo, bravo, bravo. E' stato detto. Raga, raga. Grazie a tutti.